Amici di calciomercato.com ben ritrovati con l'indischiazione quest'oggi per parlare di Calidou Colibali fino a qualche mese fa era il perno della difesa del Napoli un giocatore ambito da tutti i maggiori club europei che abbiamo raccontato delle offerte del Manchester City in Manchester United di vicino ai 100 milioni di euro rispedita dimittente dal Napoli che invece adesso sta facendo delle riflessioni perché Calidou Colibali non sta vivendo una grande stagione complice a qualche infortunio di troppo ma soprattutto prestazioni non all'altezza della sua fama vi possiamo raccontare invece di un inserimento a sorpresa del Paris Saint Germain con i tatti con chi è vicino al giocatore per capire la fattibilità dell'operazione vorrebbe il club paritiero avere uno sconto rispetto alla clausola rescissoria da 150 milioni di euro e soprattutto Colibali nella capitale francese potrebbe raccogliere il testimone di Thiago Silva che al momento non sta trovando l'accordo per il rinocchio del contatto con il club parigino